La partita come hai visto? Allora, guarda, io credo che sia stato sicuramente un impatto importante in questo campionato contro una squadra forte e con un impatto sicuramente positivo perché abbiamo cercato di metterli in difficoltà e ci siamo riusciti analizzando la partita di Barcellona abbiamo anche trovato un'ottima gara da parte loro quindi questo alza anche molto il livello della nostra prestazione ci sono tante cose positive, le cose sulle quali dobbiamo lavorare sono quelle tipiche di questo momento per cui stavamo analizzando anche insieme al capitano il fatto che se lavoriamo su questa strada abbiamo veramente da migliorare possiamo migliorare e si vedono già i frutti nell'analisi della partita specifica un pochino più di movimento della palla nel secondo tempo quando magari con qualche gioco più specifico che dovevamo usare cioè non siamo stati molto capaci ad alternare magari il movimento di palla però insomma voglio dire si trattava forse di attaccare un po' più cari a strappellazione la penetrazione perché loro stavano un pochino subendo in uno contro uno sia il post basso che la penetrazione ma insomma fa parte della lettura della partita che probabilmente quando si ha una condizione anche migliore si può analizzare meglio anche da parte nostra quando giochiamo però sinceramente io l'analisi la faccio perché l'ho fatta ma voglio anche dire che il nostro esordio Lega 2 credo sia, cioè, sottolineerei nel nostro esordio Lega 2 l'immediato rispetto di questa categoria che questi giocatori hanno subito, devono subito riavere indietro la categoria e la partita dove abbiamo giocato molto un impatto di categoria, abbiamo giocato una buona partita e abbiamo giocato contro una forte squadra, siamo stati lì a lottare fino alla fine e questi sono tutti i mattoni che ci possono far crescere durante la stagione ripeto, nello specifico è molto semplice si fa un primo tempo come da piano partita e si fa un secondo tempo come da piano partita che può migliorare per le condizioni della squadra e per un po' di movimento di palla in più movimento intendo dire passaggi ma anche un po' più di attacco al ferro, un po' più di attacco al ferro ma insomma... Polizio, peccato il tecnico una considerazione banale a me è sembrato che più che un vostro limite sia stata la forza degli avversari che ha fatto la differenza, cioè io ho visto una squadra, gli avversari, davvero di grande in dubbio lo sapevamo, però sai, noi siamo partiti per giocarcela come faremo sempre e quando vedi la squadra che gioca così, per carità quello che dici è giusto ma guardi i tuoi e dici, porca miseria, avanti così che ne riparleremo ok, perché vedi la tua squadra che ha gli occhi, le facce, l'atteggiamento, che lotta cioè siamo consapevoli di chi andiamo davanti, però così distinto mi viene più da rispondere sui miei giocatori che è il miglioramento da fare poi il miglioramento, certe cose non te le fanno fare neanche gli altri perché magari sono male, però capisci, noi siamo consapevoli del fatto che abbiamo questo margine di miglioramento oggi la partita della squadra è stata una partita che ha cercato di essere pronti via la prima in Lega 2, a livello massimo della Lega 2, quindi penso che sia da sottolineare l'analisi della partita c'è perché poi abbiamo perso, quindi ci fa mica piacere, quindi siamo contenti però vogliamo metterla nel giusto elemento della nostra, quello che siamo adesso, insomma esageriamo un po' dall'altra parte due momenti della partita, uno su più otto, avete fatto tre azioni, come, che è quindi da rinforzare, non si sapeva la palla, peraltro su 60-60, che eravate in rimotta non siete riusciti a freddizzarla, proprio perché avete fatto, non si avete rinforzato c'è stato un po' di dei momenti chiave più che forzare sai cosa, che era il momento in cui dovevamo correre abbiamo corso un po' di più e in quel momento lì, nell'avere in testa il fatto che dovevamo correre è stato un paio di azioni che in effetti potevamo, mica non correre, bastava poi ribattare la palla insieme a giocare 5 secondi in più però è anche vero che è in quel modo che abbiamo recuperato ed è anche vero che al di là della condizione di Michael è uno che in quelle situazioni lì a campo aperto se ne può prendere per andare ancora, quanto eravamo, due in più invece la seconda volta, siccome ci avevano fermato, probabilmente sì, potevamo giocare un po' di più la palla, però avevamo, cioè abbiamo come dici tu forzato, dunque forzato abbiamo accelerato i tempi su situazioni che però avevamo fatto anche in primo tempo, le avevamo fatte prima, quindi sai dopo alla fine ci sono aperti due tiri una palla che indagisce però comunque condivido il fatto che in quei momenti lì la nostra crescita passa anche da quella situazione grazie